Ora dicevo, ora il finanziamento privato l'abbiamo conosciuto e su questo punto non accettiamo lezioni da nessuno, specialmente da chi si può permettere in lusso di rifiutare il finanziamento pubblico, perché c'è qui, non si può rifiutare, non si può permettere di rifiutare il finanziamento pubblico. Questo è il punto, questa è la differenza fondamentale o per chi non ha l'esigenza di avere una sede o di avere un giornale. Noi preferiamo avere una sede o un giornale, altri preferiscono avere un computer, sono fatti loro, ma non ci possono imporre la loro tecnologia e i loro metodi e viene dato impasto alle persone, non un aumento di stipendio, ma una legge, un vaffanculo contro i partiti, scusate l'espressione ma è diventata ormai, come dire, di voda. Grazie.